Sto aspettando la U... Non sono stato io! Oh cavolo, ce la siamo cavata per un miracolo! Ricordami di non farti salire mai più sul palcoscenico, ragazzino! C'è chi può e chi purtroppo non può! Tu mio giovane amico non puoi! Aspetta, voglio completare questo pensiero di fuori! Ecco il piccoletto! E il ragazzo non sono stato io! È mio! Possiedo lui e tutti i suoi relativi diritti! Il ragazzo non sono stato io nello sketch del vaso Ming! Questa scala traballante davanti a questa porta è il posto ideale per questo inestimabile vaso Ming! Non sono stato io! Grazie, grazie! E ora le ballerine non sono stato io! Fermo lì, messere! Codestati fredda sul colpo! Non sono stato io! Quando lo dice quel ragazzino! Tesoro! Joe, come hai potuto? Non sono stato io! Aiuto! Aiuto! È la terza volta che questo palazzo viene completamente distrutto dalle fiamme perché qualcuno fuma a letto! Non sono stato io! Aiuto! Aiuto! Questa biografia di Bart è uscita in un baleno, ma non parla neanche di lui! Invece sì, guarda la copertina! Ma parla soprattutto di Rospero e gli ultimi due capitoli sono tratti dal processo di Oliver North! Oh, Oliver North! Beh, lui sì che è nato per indossare quella di viso! Non sono stato io! Non sono stato io! Ehi, afflevo! Incredibile! Devo pagare per vedere mio nipote! Questo grazie ai democratici! Incontrate ragazzo! Cinque dollari oppure telefonate agli ventiquattori al giorno sulla Bartline! Bartline! Tu sei Bart? Certo che lo sono! Non l'ho fatto io! Non dovrebbe essere, non sono stato io! Sì, vabbè, è uguale! Non pensavo che l'avrei mai detto, ma non siamo qui per imparare qualcosa! Dai, di la battuta, Bart! Non sono stato io! Sììììì! No!